e ben a tutti ragazzi bentornati al mio canale quest'oggi siamo su un nuovo video raga siamo sulla reazione di locomotive mosca juventus bensì raga ho visto la partita e primo tempo ha giocato molto molto male la juventus arriva il gol di ramsey su un calcio di punizione di cristiano ronaldo di quelli assurdi davvero di quelli assurdi poi il pareggio della locomotive mosca che io non so pronunciare il nome della locomotive mosca però ha fatto un gol diciamo bello perché ha coperto di destra e poi con il piede l'ha insaccata in letra quindi juve molto 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 non era sul sul gioco nel primo tempo poi secondo tempo più o meno più o meno si è ripresa e stanno sul risultato di 1 a 1 quindi se nel se la locomotive mosca dovesse passare in vantaggio la juventus dovesse passare in vantaggio lo scrivo nel titolo raga quindi davvero davvero una brutta juve nel primo tempo secondo tempo si è diciamo ripresa e ha giocato un bel calcio e la locomotive mosca ha fatto 18 tiri contro i 15 la juventus quindi raga è abbastanza equilibrata come partita alla fine perché avrei piaciuta molto nel secondo tempo è piaciuto molto il primo tempo mi sono leggermente annoiato però nel secondo tempo ho visto squadre più aperte e più propositivi in attacco quindi se dovessi dare un voto alla juventus darei 5 e mezzo barra 6 perché il pareggio a mosca ci potrebbe anche stare però si deve finire la seconda a mosca però ci sta ci sta vedete ragazzi questa relazione è piaciuto un bel like fatemi sapere qui sotto commenti alla vostra iscrivetevi al canale attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi